Buongiorno a tutti, è un privilegio per me oggi poter predicare la parola e condividere quello che il Signore ha messo sul mio cuore. Questa mattina il Signore ci vuole dare un tema molto, molto attuale e molto importante. Vorremmo parlare del coronavirus. Oh, ancora coronavirus, ma non abbiamo sentito abbastanza. Sono sei mesi che se ne parla e se ne sentono di tutte e di più. Io posso capire che tanti possono anche essere stanchi di ascoltare quello che ognuno ha da dire a proposito e magari anche stanchi di dover assumere certi comportamenti. Ma noi ne vogliamo parlare perché Dio ne parla ed è molto entusiasta sull'argomento. Dio parla, ci parla nella sua parola di virus e di temi attuali, attualissimi, che ci toccano ogni giorno. Anche su fattori che toccano il nostro comportamento. So che noi invece siamo molto divisi, ascoltiamo notizie a destra e a sinistra e non riusciamo neanche ad andare d'accordo se, per esempio, temi come la mascherina. Sì, mascherina no. Chi la vuole mettere? Chi si rifiuta di metterla? C'è stato un caso a Lugano l'altro ieri di questo povero autista che non ne poteva più perché la gente andava da lui perché c'erano quelli che non volevano mettersi la maschera sul bus e lui diceva ma io non sono mica un poliziotto, non posso star lì a guidare e anche a fare il giudice di pace. E assistiamo a divisioni, assistiamo a opinioni e opinioni di qua, opinioni di là. Noi vogliamo capire, per noi credenti, forse la cosa più importante è andare a capire qual è l'opinione di Dio su questo argomento. E quando vogliamo sapere la mente di Dio, conoscere il suo pensiero, cosa facciamo? Andiamo alla sua parola. Apriamo il suo libro e per farlo velocemente di solito andiamo sulla chiave biblica, cerchiamo una parola e andiamo a vedere tutte le referenze. Allora andiamo a vedere, se possiamo farlo online, che è più facile, mettiamo la parola covid e andiamo a vedere cosa ci dà. Zero risultati. Ah ma allora non ha niente da dire la parola di Dio su questo argomento. Allora andiamo a cercare virus. Virus, zero risultati. E allora vuol dire che anche lì non c'è interesse. Andiamo a cercare corona. Corona, 55 risultati. Ah beh, allora la Bibbia ha qualcosa da dire, a proposito ce l'ha. Corona di spine, corona della gloria, corona di diamanti e di pietre preziose. Niente a che vedere con virus. Allora lì noi possiamo concludere, spesso lo facciamo in tanti casi, con certi argomenti. A Dio questo argomento non interessa o non gli riguarda e non è attuale, diciamo è attuale per noi, ma non è nella Bibbia, perché la Bibbia è un libro arcaico, antico, scritto a 4.000 anni fa e non ha più senso usarla ai nostri giorni. E questo pensiero è molto prevalente, tra non credenti sicuramente, ma spesso anche tra tanti credenti. E invece io vorrei proprio aprire questo tesoro questa mattina e vedere quanto Dio ha da dirci a proposito. E' una miniera di informazioni e di disposizioni per come vivere la nostra vita. Oggi, odierna, e vediamo quanto è attuale, ci dice come ci proteggiamo, come dobbiamo avere una distanza sociale. Parla di lavarsi le mani. Ora, questi sono argomenti che sentiamo tutti i giorni. Così ci proteggiamo, distanza sociale, andrà tutto bene. Sono concetti molto biblici. Non mi piace usare tanto la frase distanza sociale perché purtroppo hanno usato un nome che non è efficace perché la distanza dovrebbe essere fisica, ma non sociale. In questi tempi dobbiamo usare molto di più la vicinanza sociale, anche essendo magari distanti fisicamente, e con proposito sforzarci in altri modi di rimanere vicini tra di noi, uno con l'altro, socialmente. Quindi io preferisco usare la parola distanza fisica che distanza sociale. Ma questa è quella che viene utilizzata. E quando apriamo la parola vediamo quanto Dio ha da dirci, forse non sulla parola stessa, ma sul concetto e il principio, per esempio, della contaminazione, di come non contaminarsi, come non prendersi delle malattie infettive. perché sono sempre esistite, esistevano ai tempi del suo popolo, di Israele, e esistono ancora oggi. E Dio ci dà una legge molto specifica, molto dettagliata, e possiamo vedere nella slide quanti passaggi biblici possiamo trovare a rispetto della contaminazione. Come fai a trovarli? Cominci a leggere la parola e con in mente quello che tu stai cercando. Vuoi capire cosa Dio pensa sulla salute, sulla salute pubblica, sulla salute individuale? Leggiti i passaggi e te li marchi fuori, uno dopo l'altro, e vedi quanto Dio ha da dire su questo argomento. E così lo puoi fare con ogni argomento che ti preme, trovare ogni risposta alla domanda che tu ti stai ponendo. In questo caso, parlando di contaminazione, parlando di malattie infettive, Dio ha più di 200 passaggi e riferimenti a proposito. Sono tanti. E questi Dio li ha scritti 1892 anni prima ancora della scoperta del fatto che esistono i virus, prima ancora della scoperta del fatto che ci sono delle cose invisibili che possono infettare l'essere umano e portare malattie. E Dio, ai tempi ancora degli ebrei, diceva, dava una lista di cose che semplicemente non bisogna toccare. Non toccare! E vedrai che vivrai in buona salute. Ma se non toccare cosa? Cose del nemico. Quindi quando voi andate a fare una guerra e volete portare a casa il bottino di guerra del nemico, chi l'ha toccato dovrà rimanere in quarantena dopo un certo periodo, che tutto dovrà essere lavato e messo alla luce del sole per un tempo, potrà poi essere portato al campo. Di solito durava una settimana. e tutte le persone che ne avevano toccato e le persone che avevano toccato le persone. Non toccare cosa? Morti o tombe. Non toccare sangue. Non toccare saliva. Non toccare ogni flusso che esce dal corpo dell'uomo o dal corpo della donna. tutto quello che esce dal nostro corpo è potenzialmente qualcosa che può infettare se uno ha un virus o un parassito, una malattia. Urina, feci, qualsiasi cosa che li abbia toccati. non toccateli. Eruzioni cutanee, infezioni sulla pelle, qualsiasi cosa del corpo che viene esternalizzata dall'interno, non toccatele. Muffa, funghi. Ci dà una lista completissima di cose, questo è soltanto un sommario, di tutte queste cose e tutte queste persone e tutte le persone che hanno toccato queste cose e queste persone sono considerate a rischio. E Dio dà una quarantena a ognuno di queste cose e di queste persone. Direi, vai fuori dal campo per una giornata, stai via una settimana o stai fuori dalla congregazione fino a quando tutti i sintomi o tutta l'evidenza di questa malattia esiste. Poi vai dal sacerdote, ti fai vedere, ti fai esaminare e lui ti dichiara guarito. Il sacerdote, a quei tempi, faceva la funzione del medico. Ora, 4.000 anni fa ci è stata data una lista di cose da fare che sono attualissimi oggi e ci vengono predicate dal nostro governo, la sanità pubblica ci instiga a utilizzare questi metodi che non hanno inventato loro, perché è scienza e Dio l'ha conosciuta prima ancora dell'esistenza del mondo. Deuteronomio 23, 9 a 14. Andiamo a vedere qualche dettaglio di quello che Dio voleva insegnare agli israeliti e tramite di loro quello che Dio insegna a noi. Quando uscirai e ti accamperai contro i tuoi nemici, guardati da ogni cosa malvagia. quindi il contesto chiaro un gruppo di uomini vanno soldati, vanno in guerra, si accampano ai confini del paese straniero, ai confini del campo nemico, si preparano all'attacco e voleva proteggere ogni soldato da qualsiasi cosa malvagia, in questo caso qualsiasi malattia che poteva contagiare il campo. E se c'è qualcuno in mezzo a te che è impuro a causa di un accidente notturno, semplicemente un'emissione notturna, uscirà dall'accampamento e non vi rientrerà. Verso sera si laverà con acqua e dopo il tramonto del sole potrà rientrare nell'accampamento. Quarantena. Quanto tempo? tutta la giornata finché il sole non è tramontato. Si laverà con cosa? Con acqua. Rimarrà sotto il sole. Acqua e sole sono due elementi purificatori. L'acqua lo sappiamo bene, il sapone non ce l'avevano ancora, però avevano il sole. Sappiamo che il sole uccide parassiti, uccide virus. Noi in Africa quando non avevamo filtri o sapevamo che l'acqua era contaminata dal pozzo, si andava a prendere l'acqua, la si lasciava al sole tutta la giornata e poi solo alla sera o l'indomani si poteva bere e ci si poteva lavare e usarla. Perché una gran quantità di parassiti morivano con i raggi del sole. Quindi Dio incredibilmente lo sapeva già e lo istruiva al suo popolo. 12 Avrai pure un luogo fuori dall'accampamento e là fuori andrai per i tuoi bisogni. Più chiaro di così? Fra i tuoi utensili avrai una pala con la quale quando vorrai andare fuori per i tuoi bisogni scaverai la terra e coprirai i tuoi escrementi. Niente di quello che esce dal tuo corpo deve andare a rischio che qualcuno lo possa toccare o possa venirne a contatto. Infatti il Signore il tuo Dio cammina in mezzo al tuo accampamento per proteggerti e per sconfiggere i tuoi nemici davanti a te. Perciò il tuo accampamento dovrà essere santo affinché egli non veda in mezzo a te nulla di indecente e non si ritiri da te. Insomma molto praticamente molto banalmente a Dio piace la pulizia. Anche a me piace la pulizia non mi piace pulire e di persone alla quale piace pulire ne ho conoscete veramente poche. C'è una carissima sorella che viene in chiesa a fare le pulizie mi sono trovata nel gruppo con lei facciamo le pulizie il più in fretta possibile per togliersi questo peso dico ma quanto non mi piace pulire e lei mi fa ma a me piace dico puh sei la prima persona al mondo che conosco alla quale piace fare le pulizie ma ci piace vivere in un luogo pulito così come anche a Dio piace l'igiene e la pulizia perché la sporcizia porta malattie perché a Dio interessa la nostra salute e a Dio interessava la salute dei suoi soldati perché dovevano andare fuori a vincere le vittorie per il loro bene e li voleva proteggere Dio vuole proteggerci quando noi vediamo questi manifesti in tutte le porte in tutte le entrate in tutti i luoghi così ci proteggiamo non vediamo niente di nuovo sotto il sole lavarsi le mani mantenere distanza il più possibile con persone quando ci sono tante persone con persone che vengono da altri luoghi e se c'è il minimo sintomo vai a farti vedere da qualcuno vai dal sacerdote in questo caso fai un tampone o vai da un medico o aspetta in casa e non contaminare gli altri non prenderti il rischio di contaminare gli altri la salute pubblica e l'igiene sono dei principi biblici che Dio ci vuole trasmettere per proteggerci è un problema comunitario e è una questione di responsabilità individuale quindi quei giovani che vanno a prendere il bus senza le mascherine anche quando gli è stato detto noi come governo abbiamo deciso che per proteggere la nostra popolazione vogliamo mettere l'obbligo delle mascherine e ubbidiamo perché vogliamo essere protetti e proteggere gli altri è una responsabilità individuale che va a toccare un problema comunitario gli israeliti dovevano avere una gran fede molto più grande della nostra per ubbidire a questi comandamenti perché non avevano i microscopi non sapevano l'effetto di un virus dentro nel corpo di una persona non sapevano che una microparticella di saliva potrebbe causare la morte di una persona oggi noi abbiamo la scienza abbiamo i microscopi abbiamo medici che ne sanno tutto e di più e possiamo affidarci alla verità che anche quello che non vediamo può toccare il nostro corpo e ubbidendo gli israeliti erano diventati un popolo forte sano che conquistava un popolo dopo l'altro e non morivano come morivano gli altri che se entravano in un paese vicino e c'era una malattia che loro non avevano da quale non avevano gli anticorpi morivano come le mosche e tutti i popoli cominciavano a aver paura di questi israeliti perché diciamo hanno un dio potente il dio di israele è un dio con la quale non si gioca perché non metterti contro quelli perché perderai la battaglia e sono diventati da un popolo di schiavi poveri senza terre senza governo senza niente a diventare una forza da temere una nazione che era la nazione più potente del mondo ubidendo a dei semplicissimi comandamenti fisici immaginiamoci quanto di più possiamo trarre da questo libro di vita dio ha protetto gli israeliti erano così protetti che non sapevano neanche perché loro e quando vediamo la storia di tutte le epidemie che sono successe nel mondo fino a oggi qui vediamo covid all'ultimo stadio che aveva solo 30.000 casi ora ne ha ne ha molti molti di più ma c'è stata una piaga nella storia la peste bubonica che ha decimato la popolazione del mondo 30% della popolazione del mondo è deceduta a causa di questa epidemia e gli ebrei non morivano alla stessa velocità o con lo stesso tasso di mortalità degli altri quindi li avevano presi di mira dicono un momento o il virus o questa malattia ce l'avete portata a voi quindi gli sono andati contro o avete un antidoto che non è un segreto che non ci volete svelare e neanche loro sapevano ne sapevano il perché il covid 19 non ha preso dio per sorpresa non ha colto dio di sorpresa ci sono state epidemie siamo nel mezzo di un'epidemia pensiamo che sia tutto passato speriamo magari non lo è stiamo vedendo ancora una curva che sta risalendo e ce ne saranno ancora perché viviamo in un mondo fisico in un mondo mortale viviamo uno vicino all'altro siamo persone che portano malattie dentro di sé siamo soggetti ad un mondo che aspetta una redenzione ma non è perfetto non è redento ancora e dio in ogni modo possibile cerca di proteggerci nel fisico ma anche nella nostra vita emotiva e così anche nella nostra vita spirituale per darci una vita un corpo forte le emozioni sane e uno spirito che sia in comunione con lui e ce lo dà tutto nella sua parola nei suoi principi che ha comunicato con noi migliaia di anni fa che sono attuali e applicabili oggi nella nostra vita di tutti i giorni anche con un virus invisibile che è così contagioso così pericoloso che una particella di saliva che può andare a affettare una persona vicina gli può causare una morte un virus che non si sa bene come fare cosa farne non si trovano virus perché è un virus che cambia un virus che è differente da una persona all'altra uno può avere dei sintomi l'altro no uno può passare una malattia vivere la malattia senza neanche accorgersene uno invece si ammala deve stare a casa perché sta male un altro si ammala deve stare a casa poi deve essere portato all'ospedale un altro deve essere portato all'ospedale e muore non si sa non si può dire ecco il virus agisce così nelle persone quindi dobbiamo ubbidire alle leggi della fisica dobbiamo essere d'accordo con Dio che quello che ci può contaminare dobbiamo tenere distanza fisicamente così come emotivamente e spiritualmente Dio vuole il nostro bene e noi ne traiamo il consiglio della sua parola quindi la situazione dove ci troviamo oggi è un bellissimo esempio di come Dio inter come Dio prima di tutto ha già previsto di agire con il suo popolo di agire con l'essere umano interagire prepararlo proteggerlo e poi la dimostrazione di un grande amore di un Dio che è a nostro favore e quante persone soprattutto non credenti che dicono sempre la stessa risposta quando succede qualcosa che è negativo qualcosa di terribile o qualcosa di non piacevole e Dio dov'è e Dio dov'era e sono tempi importanti per noi cristiani perché stiamo vivendo in una crisi e il mondo sta passando una crisi e vuole risposte cerca risposte a domande se Dio è in grado di togliere il dolore la sofferenza nella vita di qualcuno e non lo fa allora che Dio è? è un Dio crudele se Dio è in grado di portare il bene nella vita di una persona di qualcuno e ha il potere di farlo e non gli costa niente allora se non lo fa è un Dio indifferente è un Dio rimosso dall'interesse umano e se c'è un disastro nel mondo che si precipita verso la terra e Dio non fa nulla per fermarlo allora lui è un Dio ingiusto chi vuole servire un Dio così ancora meno offrirgli la nostra vita e la nostra obbedienza e questo è un pensiero che noi cristiani dobbiamo contrastare che dobbiamo riflettere come uno specchio che riflette una luce e dice Dio è buono Dio è giusto e ce l'ha dimostrato nella storia ce lo dimostra oggi con la sua parola guarda 4.000 anni fa ci ha spiegato come dovevamo comportarci non è colpa del nostro governo non sono le istituzioni sanitarie che ci dicono come dobbiamo vivere Dio ce l'ha detto 4.000 anni fa perché Dio è buono e Dio ci vuole proteggere l'ha fatto lo fa e lo vuole fare continuamente appropriiamoci delle sue promesse perché quello che lui ci dice è vero e vorrei lasciarci con una bellissima promessa con un bellissimo pensiero di Romani 8 11 che è una verità è una preghiera ed è una realtà che dice che se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi colui che è risuscito Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo spirito che abita in voi qui vediamo una dimensione fisica che è integrata completamente nella dimensione spirituale il pensiero di Dio che Dio ha per il suo popolo per te come individuo per me per il mio vicino vuole proteggerci e vuole che noi ci proteggiamo gli uni gli altri lui non è neanche strano alla sofferenza è il primo che ha sofferto per la causa di un altro me e se lui ha conosciuto la sofferenza ne può anche parlare non siamo noi che andiamo a a dare un giudizio a Dio che noi siamo qui a soffrire e lui è rimosso a giudicare dall'alto è il primo che ha dato la sua vita per il nostro corpo per la nostra anima per il nostro spirito ed è venuto a redimerla quindi noi abbiamo il compito di andare da questo Dio di andare dal Redentore di tutte le cose in preghiera e la responsabilità di fare la nostra prevenzione ci laviamo le mani non stiamo a distanze manteniamo le distanze e ci proteggiamo facciamo quello che noi possiamo fare perché Dio farà il resto e con questo vorrei pregare e lasciarci proprio con con queste promesse che Dio ci ha dato Signore grazie perché è così bello quando scopriamo che tu hai lanciato i tuoi pensieri già nelle antichità per noi qui nel 2020 tu hai già proiettato il tuo amore verso di noi la tua perseveranza nel tuo amore per instigare i tuoi affinché potessero aprire gli occhi aprire le orecchie aprire il cuore verso i principi che tu avevi già detto avevi già dato noi vogliamo prendere i tuoi consigli Signore vogliamo aprire la tua parola scoprire i tuoi segreti e ricevere da questo libro di vita Signore le prescrizioni di come vivere in tutto quello che appartiene al nostro corpo al nostro anima al nostro spirito vogliamo dire che ti amiamo e che ci amiamo Signore e con questo vogliamo essere i tuoi testimoni della tua bontà e di quello che tu hai condiviso con noi Amen Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti